Che carattere, che carattere, Yannick Sinner che batte Alex Bolt con il punteggio di 6-4, 3-6-6-4 nella finale del Challenger di Lexington, alla terza finale Challenger, riesce a confezionare il secondo successo Challenger in carriera e nella stagione. Dalla prossima settimana sarà già nei primi 150 del ranking ATP, straordinario Yannick Sinner, straordinario per il carattere che ci ha messo nel terzo set, a parte ragazzi partiamo dal presupposto che è stata una finale di livello altissimo, secondo me di livello già ATP 250 perché sono due ragazzi che evidentemente sanno giocare bene a tennis e il loro livello comunque in questo momento si equivale abbastanza, come abbiamo visto a Roampton nelle qualificazioni di Wimbledon dove Bolt trionfò 12-10 al terzo set, anche oggi una partita tiratissima con Yannick Sinner che stavolta si prende la rivincita, la vince al terzo set e sta diventando cosa un classico ormai la sfida tra questi due ragazzi ma stavolta è l'alto tesino a trionfare, è l'alto tesino a trionfare, l'azzurro trionfa appunto al terzo set, mamma mia ragazzi mamma mia quanto abbiamo sofferto perché sul 5-2 Poi Bolt era partito con lo 0-30 con Yannick Sinner a un passo dal match e non era riuscito a chiudere con Bolt che aveva giocato per altri anche dei veri punti dopo, poi sul servizio di Sinner anche un po' il braccino 0-30 poi 40-30 arrivano due match point, due championship point, non riesce a chiudere al game dopo, in risposta arriva il primo championship point, Bolt lo annulla magnificamente perché ragazzi Bolt ha cominciato a giocare sui match point un tennis straordinario, ha cominciato veramente a tirare tutto di là, ha cominciato veramente a spostare il suo avversario, a giocare un tennis magnifico e alla fine si deve inchinare all'ultimo match point, al quarto match point a Yannick Sinner, comunque che carattere appunto, Ti sei fatto controbreccare Sinner controribrecca e si va a prendere il torneo, questo è il carattere, questa è la voglia di vincere, questa è la voglia di vincere, è bello anche perché Sinner comunque sta migliorando, almeno in questo torneo a mio avviso, è migliorato partita dopo partita, per quello a mio avviso ancora è bene che non giochi, che non si affacci magari al livello ATP se non sporadicamente e comunque giochi challenger, proprio per ingranare, ingranare, ingranare e fare esperienza, fare gavetta, ingranare, ingranare, ingranare e giocare tanto, perché partita dopo partita sembra che questa ragazza sia prendendo sempre più confidenza, sempre più comunque contatto con questa superficie, sempre più appunto maneggevolezza con questa superficie e Sinner davvero oggi bravo, soprattutto per il grande carattere con cui si è portata a casa questa partita nel finale, però appunto una partita giornata bene da entrambi, complimenti, perché potrebbero diventare entrambi, anche se Bott adesso non è più giovanissimo, ma entrambi sicuramente si vedranno a livelli diversi, a livelli diversi di questo challenger, perché sono due tennisti destinati entrambi a fare il loro futuro, poi chiaramente Sinner essendo più giovane è ancora più futuribile, quindi grande 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 Yannick Sinner, e appunto secondo me per ora continuiamo a testa bassa, a capobasso, a pedalare e a giocare challenger, perché questa è la strada, questa è la strada per migliorare, questa è la strada per migliorare partita dopo partita, perché se si chiede alla fine le vuole carne con gli attivi sugli ATP, e si gioca ogni tanto, si perde al primo turno, si comincia a giocare poche partite, meno confidenza, poi chiaramente anche i risultati arrivano in minoranza, invece è bene anche comunque abituare alla vittoria il tennista azzurro, prendere confidenza con la vittoria a volte, perché comunque se vai a giocare a livello ATP, perdi due partite di fila, perdi in due tornei di fila al primo turno, comunque non fa anche bene il morale, invece arriva una bella vittoria in questo challenger, bravo bravo Yannick Sinner, la prossima settimana dovrebbe essere impegnato ad Aptos, intanto ragazzi qua, io ho visto sia Sinner sul computer, sia alla televisione purtroppo, ahimè Camilla Giorgi, perché come vedete alle mie spalle, Jessica Pegula sta alzando al cielo il trofeo di Washington, una finale pessima giocata da Camilla Giorgi, veramente pessima, una finale forse perfetta, ha trovato la finale perfetta Jessica Pegula che la vince 6-2-6-2, una finale senza mai discussione, una finale dove non c'è mai stata partita grazie a una Pegula semplicemente più forte e che è stata più solida della sua avversaria, evidentemente la Pegula ha servito bene, ha risposto ancora meglio, perché ragazzi oggi veramente una Pegula straordinaria in risposta, straordinaria in risposta perché sin dal primo scambio, sin dalla prima di servizio della Giorgi, che comunque come sappiamo non è proprio tenera, è subito, subito ad accelerare, subito a spingere, e il fatto è che la Pegula ha sbagliato pochissimo, ha sbagliato pochissimo, nonostante appunto prendesse l'iniziativa sin dal primo scambio, la Pegula ha sbagliato pochissimo, quindi onore, onore alla statunitense che oggi ha meritato pienamente questa vittoria. Per la Giorgi semplicemente una serata no, una serata no, una serata in cui non è funzionato veramente niente, e veramente la Pegula evidentemente ha giocato un grande torneo e anche stasera comunque ha preparato la partita molto bene, perché ha spostato la sua avversaria, l'ha colpita un po' sui punti deboli, l'ha costretta anche a spingere da posizioni defilate, a volte insomma ha trovato degli angoli, e appunto è stata brava l'americana proprio ad accettare anche questo ritmo imposto da Camila Giorgi e usare questo ritmo per manovrare, manovrare la sua avversaria passo dopo passo, quindi bravissima veramente la statunitense che ha meritato pienamente la vittoria dopo il termine di un torneo straordinario, che comunque non cancella la bella performance di Camila Giorgi, che appunto non ha giocato male in questo torneo, anzi è stato il torneo forse della rinascita dopo l'infortunio al pulso, sta di fatto che comunque in questa finale la prestazione deludente un po' c'è stata per la marchigiana, anche grazie appunto alla partita perfetta giocata da parte della tenista americana. Fatemi sapere voi invece nei commenti che cosa ne pensate, lasciatano l'angra inizia via il video e condividete questo video e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Quindi questa settimana ci portiamo a casa comunque una finale a livello VTA, ci portiamo a casa una semifinale ATP, ci portiamo a casa dei quarti di finale ATP, ci portiamo a casa due successi challenger con Yannick Sinner a Lexington e Stefano Travaglia a Sopot, quindi direi, la reputerei comunque una settimana molto positiva per i nostri colori. E a questo punto ragazzi, buonanotte a tutti, arrivederci ragazzi e ci vediamo al prossimo video.